Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto «Gli apostoli e agli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie, a stenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero d'Antiochia. Riunite all'assemblea, consegnarono una lettera. Quando le ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Dal Salmo 56 Ti loderò fra i popoli, Signore. Saldo è il mio cuore, o Dio. Saldo è il mio cuore. Voglio cantare. Voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore. Svegliatevi, arpa, eccetera. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. A Te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il Tuo amore, e fino alle nubi la Tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, o Dio. Su tutta la terra, la Tua gloria. Ti loderò fra i popoli, Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, disse Gesù ai Suoi discepoli Questo è il mio comandamento Che vi amate gli uni e gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo Dare la sua vita per i propri amici Voi siete miei amici Se fate ciò che io vi comando Non vi chiamo più servi Perché il servo non sa quello che fa il suo padrone Ma vi ho chiamato amici Perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio L'ho fatto conoscere a voi Non voi avete scelto me Ma io ho scelto voi E vi ho costituiti perché andiate E portiate frutto E il vostro frutto rimanga Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome Ve lo conceda Questo vi comando Che vi amiate gli uni e gli altri